Primo risultato dei colloqui diplomatici tra Seoul e Pyongyang. La Corea del Nord invierà una delegazione ai giochi olimpici invernali che si svolgeranno a Pyeongchang dal 9 al 25 febbraio prossimi. Seoul ha chiesto che gli atleti di nord e sud sfilino insieme le cerimonie di apertura e chiusura, incoraggiate da una squadra di sostenitori nordcoreani. Ieri il ministro degli esteri del sud aveva espresso la speranza che le olimpiadi superino il contenuto sportivo dell'evento e siano l'occasione per una nuova rinconciliazione tra i due paesi, fornendo così spunti ed aperture per la soluzione della crisi nucleare. Eppure, negli Stati Uniti d'America, il Financial Times avverte. Il segretario della difesa James Mattis, dopo aver allertato le truppe a dicembre parlando di venti di guerra, le ha esortate a leggersi This Kind of War, un libro che racconta come gli americani fossero impreparati per la guerra di Corea nel 1950. E dopo aver detto che c'è ancora spazio per la via diplomatica, ha concluso dicendo c'è poco da essere ottimisti. In una nota di ieri, martedì 9 gennaio, il ministero della difesa russo dichiara di aver notato strane coincidenze durante l'attacco con 13 droni in Siria. Un aereo spia statunitense Poseidon è stato intercettato proprio tra l'attacchia e Tartus nelle stesse ore. Inoltre, prosegue la nota, la tecnologia sofisticata dell'attacco tramite droni prevede necessariamente il supporto di un paese sviluppato. Non tutti possono ottenere precise coordinate di sorveglianza aereo-spaziale. In un aggiornamento di oggi, lo stesso ministero della difesa russo dichiara che l'attacco proveniva dalla zona sudo-occidentale della provincia di Idlib, area di de-escalation, dove stazionerebbero cosiddette forze dell'opposizione moderata. I servizi di sicurezza israeliani hanno dispiegato spie nel territorio dell'Iran. Ad ammetterlo è lo stesso capo del Mossad, Yossi Cohen. Noi abbiamo occhi e orecchie, ha tuonato Cohen, in linea con l'intelligence statunitense nel contrastare la presenza iraniana, soprattutto in Iraq e Siria. Sullo sfondo, la strumentalizzazione delle recenti proteste in Iran contro l'attuale governo Rouhani, dove si sono visti cecchini sparare sia sulla folla che sulla polizia, esattamente come in Siria, Libia, Ucraina. Una versione simile contro Teheran si vide già fra il 1997 e il 2005, commenta Davoda a basi della redazione di Pass Today, sotto il presidente riformista Seyed Mohamed Katami. Il giornalista denuncia ora la malafede di alcuni media occidentali, BBC in primis, che avrebbe spacciato l'uccisione di due agenti della polizia per l'uccisione di due manifestanti, ma anche la diffusione della foto della ragazza arrestata per la protesta contro l'obbligo del velo. L'immagine diffusa da Masid Alinehiad, che fa da spola fra Londra e New York, continua a basi, a mio avviso è un'operazione orchestrata e pagata dagli USA. Non penso che le forze occidentali vicine a Trump siano interessate al benessere delle donne iraniane. Se lo fossero, si focalizzerebbero sulle riforme portate avanti dalle nostre parlamentari. La Cina spedisce in orbita due satelliti da 0,5 metri per telerilevamento ad alta risoluzione a uso commerciale. I satelliti forniranno servizi per ricerca su terra e risorse, elaborazione mappe, monitoraggio ambientale, finanza, assicurazioni e industria del web. Nel frattempo, nel suo ultimo rapporto, la Banca Mondiale ha prospettato per la Cina una crescita economica annuale del 6,8% nel 2017, un incremento di ben due punti base rispetto alle previsioni di sei mesi prima. Anche il giornalismo cinese apre la strada all'intelligenza artificiale. L'agenzia di stampa cinese Xinua, infatti, pianifica di integrare ulteriormente l'intelligenza artificiale proprio nella produzione di notizie. Kai Mingzao, presidente di Xinua, ha dichiarato che l'agenzia costruirà una sala stampa high-tech caratterizzata dalla collaborazione Uomo-Macchina. Grazie a tutti.